C'è una canzone che sono ormai tantissime, passano agli 800 sicuramente, che ho sempre usato o come inizio o come finale, una delle canzoni che ho usato più spesso come finale è quella che facciamo adesso. Mi piace però raccontare rispetto a questa canzone una cosa curiosa. Molti anni fa, mi pare fosse il 79, forse addirittura alla fine del 78, probabilmente il dicembre del 78, ci fu un signore che lavorava nella mia casa discografica, cioè la casa per la quale lavoro, che mi disse che il mio linguaggio era ormai obsoleto, era un po' andato, che il mio lessico non era attuale e che avrei dovuto cambiare modo di scrivere canzoni perché insomma un sacco di roba. Io sono una di quelle persone che ci pensa e evidentemente la cosa mi ha messo in crisi, ci ho pensato molto, ci ho pensato diciamo alcuni giorni. Poi mentre stavo risolvendo dentro la mia testa la cosa, un giorno telefonai a Milano per caso e beccai proprio lui al telefono e lui mi fece il discorso tutto da capo e quindi mi fece una capa tanta insomma, cioè il discorso è che proprio ero in crisi. Poi una sera ero a letto, mia moglie dormiva, io no, mi avevo detto una penna in mano, non so da dove e anche un foglio di carta, ho cominciato a scrivere giù perché il discorso è che io volevo proprio scrivere quello che scrivevo, cioè quello che mi pareva a me, non quello che pareva a lui. Allora, scrivi una canzone che è quella che farò adesso e la portai qualche giorno dopo a Milano all'ascolto. Ora, questi signori erano diversi, apprezzavano tutti molto la canzone, ma la cosa che invece conta di più è che questo signore ascoltò la canzone e mi piace pensare che si licenziò per quello. Adesso che farò non so che tiro, è proprio come quando stavo solo, ho sempre scritto i versi con la penna, non ordini precisi di lavoro, ho sempre odiato i porci e i ruffiani, a quelli che rubavano il salario, i falsi che si fanno una carriera con certe prestazioni fuori orario. canterò le mie canzoni torno a fronte ed affronterò la vita a museo duro e un guerriero senza patria e senza spada con un piede nel passato e lo sguardo dritto è aperto nel futuro. ho speso quattro secoli di vita e ho fatto mille viaggi nei deserti perché volevo dire ciò che penso, volevo andare avanti ad occhi aperti, adesso dovrei fare le canzoni con i dosaggi esalti degli esperti, magari poi vestirmi come un fesso per fare il deficiente nei concerti. canterò le mie canzoni torno a fronte ed affronterò la vita a museo duro e un guerriero senza patria e senza spada con un piede nel passato e lo sguardo dritto è aperto nel futuro. canterò le mie canzoni torno a fronte ed affronterò la vita a museo duro e un guerriero non so se sono stato mai poeta e non mi importa niente di soverlo riempirò i bighieri del mio vino non so come però ti invito a verlo e le masturbazioni cerebrali e lascio il dia maduro al momento giusto. canterò le mie canzoni torno a fronte ed affronterò la vita a museo duro e un guerriero senza patria e senza spada con un piede nel passato e lo sguardo dritto è aperto nel futuro. canterò le mie canzoni torno a fronte ed affronterò le mie canzoni torno a tutti e alla fine della strada potrò dire che i miei giorni li ho vissuti. canterò le mie canzoni torno al momento Woohoo Grazie a tutti Grazie a tutti